La tutela dei diritti dell'infanzia è stata il tema di un incontro organizzato dalle consulte regionali europea, femminile e giovani con il Comitato per i diritti umani a Palazzo Lascaris. L'iniziativa, patrocinata anche dall'autorità garante, ha preso spunto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dalla Carta dei diritti della bambina.